Qual è la problematica che è sorta nella zona di via Ristoro, nella parte bassa di via Vittorio Veneto? Dovranno iniziare dei lavori di rifacimento della zona di Saione e in concomitanza chiudere il parcheggio e mettere gli ambulanti di qua. Solamente che questo non è successo, perché il comune non si è coordinato, secondo me con se stesso, perché non c'è altro sistema. Ma è in questo momento che succede, che la piazza è stata chiusa al traffico, c'è i banchi e purtroppo non sono iniziati i lavori, quindi è un disagio anche per i commercianti soprattutto, perché ovviamente non c'era bisogno di chiudere ora il parcheggio se non sono iniziati i lavori. Prima si iniziano i lavori, si fa il cantiere e poi in concomitanza si chiude e il parcheggio ci si mette gli ambulanti. Questo è da subito dopo le feste, quindi i commercianti che sono lì sono un po' tutti arrabbiati, perché ovviamente non stanno lavorando e c'è un disagio anche in questo momento del parcheggio, è un polmone grosso per via Vittorio Veneto. Quindi io penso che il comune un attimino se ancora non ha deciso di fare i lavori bisogna che riapra quel parcheggio e rimetta gli ambulanti di là e lasci il parcheggio libero, anche perché ieri come ho fatto vedere c'era un ambulante e il parcheggio vuoto, insomma è un po' un problema per noi commercianti. Quindi sono già intanto due settimane abbondanti, siamo in periodo di saldi, quella peraltro è una zona, lo sappiamo, dove i parcheggi non è che ce ne sono a volontà. Esatto, però devo dire anche un'altra cosa, quando c'era la città del Natale, era un parcheggio per la città del Natale, faceva comodo e allora non si è chiuso, e allora cerchiamo anche però di aiutare i commercianti che non hanno usufruito della zona di Natale e dandogli una mano, coordinandosi meglio quando facciamo questi lavori, se no facciamo via Fiorentina 2.